E' ritenuto responsabile di diverse rapine aggravate commesse a Bologna, tutte in negozi del centro storico. La prima risale al 12 agosto scorso da Ingram in via Ugo Bassi, la seconda in una parafarmacia in strada maggiore il 3 settembre, la terza nel negozio di abbigliamento Dogo sempre in via Ugo Bassi l'8 settembre e tre giorni dopo l'11 una quarta ai danni di una farmacia in via Saragozza. Tutte rapine finite in un'indagine della squadra mobile della questura di Bologna, che lunedì scorso ha portato all'arresto di un 48enne bolognese con precedenti specifici. Nei diversi episodi il modus operandi rimaneva lo stesso, l'uomo entrava attravisato da un cappello e con la mascherina sul volto e minacciava i commessi con un coltello facendosi consegnare l'incasso. Ma non solo, li costringeva ad aprire le borse per recuperare anche i loro soldi e poi li obbligava a nascondersi nel retro o nel bagno del negozio per poter così scappare e ritardare l'intervento della polizia. Proprio le vittime nelle loro testimonianze hanno indicato due particolari utili alle indagini, dei tatuaggi su entrambe le mani e il manico blu del coltello. Analizzando le telecamere poi gli agenti della quarta sezione della squadra mobile contrasto al crimine diffuso sono riusciti a individuare il volto dell'uomo e da lì sono scattate le ricerche. Il 48enne è stato rintracciato nel centro città in possesso del cutter con manico di colore blu utilizzato nelle quattro rapine e con cui stava probabilmente per commetterne una quinta. Dalla perquisizione a casa sua sono emersi e sono stati quindi sequestrati i vestiti indossati nei giorni delle rapine dall'uomo, fermato in accordo con la procura. Per lui il GIP del Tribunale di Bologna ha applicato la custodia cautelare in carcere.